Destinazione Villa De Paperoni Villa De Paperoni? Di Paperon De Paperoni? Il Trilionario! Così hai deciso di venderci? Qua 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 qua! Devo sento Paperon De Paperoni! Sei davvero nostro zio? Quanti anni hai? Un tempo eri un pezzo da 90 Poi che cosa ti è successo? Un tempo eri un pezzo da 90 Io sono Paperon De Paperoni Mi sono fatto un nome come il più duro dei due E il più furbo dei furbi Certo, se scegli il modo più facile Oh, mamma mia, i nipotini! I vostri gruppi sanguigni come Paperino Chi è il gemello cattivo? Qua Siamo una famiglia normale e noiosa Normale? Noiosa? Paperino è lo spirito più intrepido e avventuroso di tutti i tempi Mando avanti un'attività multitrilionaria Saprò gestire dei ragazzini E poi abbiamo in programma una giornata di basso profilo Ogni giorno c'è una nuova storia Sono tornato! Territori ancora inesplorati Scoperte nuove straordinarie Ragazzi, la nostra famiglia è straordinaria Ah, la famiglia è davvero la più grande avventura che... Oh, no! Ah, io sono! Nante! Woo!